Mystic Knights di Tirna Nog, quattro cavalieri nella leggenda in lotta contro i guerrieri del male. Ice Lord, signore del ghiaccio con la sua micidiale testa d'ariete, attacca i quattro cavalieri, ma i Mystic Knights rispondono con la catapulta Ice Storm, in grado di lanciare pietre, dardi e di dividersi in due parti. Al loro fianco Pyre, l'invincibile dragone volante che lancia lingue di fuoco. Mystic Knights di Tirna Nog, quattro cavalieri nella leggenda, solo da giochi preziosi. Mystic Knights di Tirna Nog, la potenza della spada di Rohan. Falla roteare, è la spada del capo dei Mystic Knights e racchiude tutta la forza del drago. Mystic Knights di Tirna Nog, la spada di Rohan, è solo giochi preziosi.